Eder, Mech, Pallister Il terribile bilancio dell'agguato avvenuto in via Archimede, nei pressi dell'ufficio postale a Valguarnera Caropepe, nell'Ennese, è di un morto e due feriti. Salvatore Scamacca, 47 anni, operaio edile, sposato, è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. L'uomo, prima dell'arrivo dei soccorsi, ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro il furgone di un ambulante. Ferendo anche lui e una cliente. Subito dopo l'agguato, l'aggressore si è dileguato a piedi. La procura di Enna ha aperto un'inchiesta, per rintracciare l'uomo, che secondo quanto si apprende, avrebbe avuto una lite con la vittima, presso un bar poco prima dell'accaduto. A Valguarnera Caropepe è partita la caccia all'uomo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!